Ciao ragazzi, ben ritrovati a Radio Puggini On Air. Finalmente il festival si è concluso e abbiamo in tempo reale potuto annunciarvi anche nella nostra radio la canzone vincitrice della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Ringrazio naturalmente tutti coloro che ci hanno seguito in diretta questa sera e durante il festival. Noi forti del vostro sostegno non ci siamo lasciati sfuggire niente, abbiamo cercato di aggiornarvi in tempo reale su tutto ciò che succedeva e ne sono successe un po' di tutti i colori come ogni anno. Ma ora il festival si è concluso, abbiamo la canzone che ci rappresenterà durante tutto l'anno ma anche all'Eurovision Song Contest. Innanzitutto vorrei sapere cosa ne pensate di questa vittoria, vi invito a scriverlo nei commenti, come sempre continuiamo a commentare quello che diciamo nei nostri video sul canale YouTube di Marco Puggini, se volete e non l'avete ancora fatto iscrivetevi. Allora ricordiamo un po' quello che è successo in questi ultimi giorni, il festival si è aperto martedì con Roberto Benigni per festeggiare 75 anni della Costituzione italiana ed era presente in sala il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per la prima volta un presidente della Repubblica, ospite in platea e anche diciamo proprio al teatro Ariston per il concorso di Sanremo. Mahmood e Blanco hanno cantato Brividi, la canzone con la quale hanno vinto l'edizione del 2022, sempre durante la prima serata i super ospiti sono stati i Poo sei anni dopo l'ultima esibizione insieme. Sul palco c'erano Roby, Dodi, Red e Riccardo Fogli, Elena Sofia Ricci ha presentato al pubblico la nuova fiction di Rai 1, Fiori sopra l'inferno e fra tutti i big che si sono, i primi 14 big che si sono esibiti, nella classifica provvisoria c'era per primo Marco Mengoni. Albano e Massimo Ranieri sono stati ospiti invece nella seconda serata del festival, mercoledì assieme a Gianni Morandi, momento comico durante la serata con Angelo Duro, oltre a Francesco Arca che ha presentato la nuova fiction Resta con me. I Black Eyed Peas sono stati i grandi ospiti internazionali, i Maneskin sono stati invece ospiti al festival durante la terza serata di giovedì, così come San Giovanni che ha cantato con Gianni Morandi, fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte, la nuova hit che hanno pubblicato insieme lo scorso 7 febbraio. Sul palco è tornato anche Massimo Ranieri, il momento comico è stato quello del monologo di Alessandro Siani, ospite invece della quarta serata di venerdì 10 febbraio, il cast di Mare Fuori che ha cantato la celebre sigla della serie e Peppino Di Capri. Quindi stasera invece ospiti sono stati Gino Paoli, Ornella Vanoni, Luisa Ranieri per parlare di Lolita Lobosco e Depeche Mode che sono i super ospiti internazionali. Durante la puntata è stato letto da Amadeus un messaggio naturalmente tradotto del presidente ucraino Zelensky seguito da un'esibizione di un gruppo musicale ucraino. E quindi come negli anni passati poi possiamo ricordare che ci sono stati sul palco, il palco sul mare in questo caso era la costa, oddio non la costa Concordia ma la costa Smeralda ancorata a largo di Sanremo dove si sono esibiti Salmo, Fedez, Tagaggi e Chetra e Guè. È tornato anche il palco di Piazza Colombo in collegamento tutte le sere con l'Ariston sul quale si sono esibiti Piero Pelù, Francesco Renga e Neck, Achille Lauro, Analisa e la rappresentante di lista. Quindi dobbiamo dire che veramente gli ospiti non sono mancati, c'è stato un grande movimento, sono successi anche dei fatti curiosi, interessanti o possiamo dire anche in un certo senso un po' tragici come Blanco che ha iniziato a spaccare la scenografia con i fiori nel momento in cui non si sentiva in cuffia interrompendo così la propria esibizione e giustificandosi dicendo che siccome non si sentiva ha trovato un altro modo per divertirsi sul palco. Così come è stato molto interessante il monologo di Chiara Ferragni, lettera a se stessa, naturalmente l'intervento di Roberto Benigni poi non possiamo dimenticare anche Gianluca Grignani quando alla fine della sua esibizione nella seconda serata si è tolto la giacca e nella camicia dietro la schiena aveva scritto No War, quindi un messaggio importante che ha voluto mandare così come il messaggio che hanno mandato ieri sera l'articolo 31 insieme a Fedez, Georgia legalizzala nel momento in cui stavano esibendosi con il Midri sull'articolo 31 e la famosissima canzone che parla di una certa Maria. Molti messaggi forti sono partiti dal palco dell'Ariston vedremo se arriveranno da qualche parte così come la maggior parte delle canzoni che non hanno vinto nulla ma non si sa mai, tutti sappiamo che Vasco Rossi è arrivato ultimo al festival di Sanremo con una canzone che poi ha fatto dei numeri straordinari ed è arrivato per lui da lì in poi il grande successo per cui anche se si arriva ultimi a Sanremo non vuol dire nulla è poi il pubblico che apprezza e che condivide le canzoni, fa in maniera tale che le ascoltano, le scaricano, le acquistano per cui fa in maniera tale che diventino dei grandi successi quindi a proposito di questo diteci cosa ne pensate di questa vittoria nei commenti sotto il nostro video su Youtube in maniera tale che possiamo continuare ad interagire insieme e a parlare come faremo ancora questi giorni del festival di Sanremo perché nonostante si sia concluso ancora per qualche giorno saranno sicuramente molte altre curiosità e retroscena di cui parlare se non siete iscritti al mio canale Youtube vi invito a farlo a seguire Radiologia perché continueremo a parlare come sempre dopo questo meraviglioso festival dei singoli e degli album in uscita e delle notizie dal mondo dello spettacolo, dell'arte, della cultura di cui ci piace parlare nella nostra radio vi ringrazio davvero per essere stati sintonizzati con noi durante questa settimana molto intensa del festival ma già da dicembre, da quando abbiamo iniziato a parlare dei titoli delle canzoni di Sanremo Giovani quando abbiamo letto i testi e poi di puntata in puntata vi abbiamo aggiornato in tempo reale su tutto ciò che accadeva grazie noi ci risentiamo prestissimo qui a Radio Puggini